Tutto pronto per la partenza dei lavori di realizzazione dell'isola ecologica di San Nicolarcella. La struttura fortemente evoluta dell'amministrazione guidata dal sindaco Barbara Mele nascerà in località Vannefora nei pressi del depuratore comunale e dovrà essere pronta entro la fine del 2012. Noi abbiamo voluto nell'appalto la realizzazione di quest'isola ecologica perché tutto questo favorirà moltissimo tutto il discorso della differenziata. Fare la differenziata senza un'isola ecologica diventa difficilissimo. Con la realizzazione dell'isola ecologica la differenziata potrà essere effettuata realmente e soprattutto si potranno raggiungere percentuali che noi abbiamo previsto. Il primo anno il 45% di differenziata, il secondo anno il 55%, il terzo anno bisognerà raggiungere il 70%. Quindi dal comune di San Nicolarcella in discarica dovrebbero andare soltanto il 30% dei rifiuti prodotti nel nostro comune. Obiettivi ambiziosi per il borgo altotirranico che oltre a dover influire positivamente nella vita dei cittadini potrebbero contribuire ad un risparmio notevole nelle spese di smaltimento dei rifiuti. Se riusciamo a raggiungere questi obiettivi che sono previsti, ripeto, nel bando nuovo che c'è stato e nell'aggiudicazione nuova che si è verificata, credo che possiamo essere un comune che da questo punto di vista ha fatto un grosso salto di qualità. Anche perché questo servizio così organizzato ci consentirà comunque un risparmio di circa 160.000 euro all'anno rispetto ai vecchi contratti. L'incognita del nuovo meccanismo potrebbe però affacciarsi con la stagione estiva nel momento in cui San Nicola passa da una popolazione di circa 2.000 abitanti ad oltre 20.000 presenze turistiche. Il problema più grosso è proprio riuscire a fare la differenziata durante il periodo estivo se non altro per il fatto che c'è tantissima popolazione e soprattutto che questa popolazione arriva non in qualche modo già abituata al nostro sistema e quindi si tratta in pochissimo tempo di riuscire a realizzarlo. Noi utilizzeremo moltissimo il discorso dei parchi condominiali, all'interno dei parchi ci sarà la possibilità di avere tanti contenitori piccoli in modo tale che tutte le utenze dei singoli parchi potranno utilizzare questi contenitori e utilizzarli naturalmente a secondo della raccolta del rifiuto che è previsto secondo un calendario che sarà distribuito e sarà fatto conoscere a tutti.